Sono qui con il nebulizzatore Geyser Evolution da 25 litri, è lo strumento ideale per eseguire trattamenti contro le zanzare in un giardino ampio come questo o in altri spazi verdi. L'ho posizionato vicino a una siepe che è il posto ideale dove eseguire il trattamento e questa siepe è anche molto vicina al gazebo dove probabilmente passerò del tempo con gli amici quindi chiudo uno dei tre ugelli posti sulla sua testa in modo tale che non vada a spruzzare direttamente sul tavolo. La macchina è già stata caricata con un liquido specifico anti zanzare ed acqua e l'ho anche già preimpostata quindi la accendo e ti faccio vedere un po' come funziona. Una volta azionata ho 30 secondi di tempo per allontanarmi e durante questi 30 secondi la macchina eseguirà un ciclo di mixaggio per avere un'ottima miscela tra acqua e prodotto anti zanzare. Bene ora che l'hai vista in funzione vuoi approfondirne gli aspetti tecnici e scoprire come impostarla o gradisci vedere un altro prodotto? Grazie. Grazie. Grazie.